Un saluto a tutti voi ragazzi da Cuccarone di Cheatsfactor.com Finalmente abbiamo trovato un trainer funzionante per Deus Ex Human Revolution Ne abbiamo testati diversi però per un motivo o per l'altro nessuno funzionava Finalmente abbiamo trovato questo, sono solo 4 trucchi però per il momento ci possiamo accontentare Anzi se trovate voi qualcosa di meglio vi prego di segnalarla così la pubblichiamo subito Quindi questo è un trainer per la versione 1.0 di Deus Ex Human Revolution su PC E contiene 4 trucchi che sono la vita infinita, la resistenza infinita, i crediti infiniti e le munizioni infinite Vediamo subito come fare per utilizzare questo trainer Si usa come tutti gli altri trainer però lo spieghiamo per chi non li ha mai usati Premetto, doverosa premessa perché non ce la faccio più a leggere commenti di persone che ci insultano in tutti i modi Perché sono convinti di aver scaricato un virus Non è vero, i trainer purtroppo hanno questo difetto, vengono rilevati come virus dagli antivirus Però non è vero, è solo un falso positivo I trainer che vi proponiamo noi provengono da fonti sicure, da siti importantissimi come Gamersel, Softpedia e così via Quindi non sono virus Anzi, bisogna per forza disattivare l'antivirus perché spesso i trainer vengono bloccati proprio dagli antivirus E quindi molto spesso quando non funzionano è proprio colpa dell'antivirus Quindi, per iniziare, prima di tutto dobbiamo avviare il gioco Perché dovremo avviare il gioco, iniziare la partita, poi mettere in pausa E con la combinazione di tasti Alt più Tab, abbassiamo il gioco e ritorniamo poi per avviare il trainer Quindi, prima di tutto, avviamo il gioco Eccoci qua, quindi una volta caricato il gioco Non dobbiamo fare altro che mettere in pausa e premere la combinazione di tasti Alt più Tab In questo modo abbasseremo il gioco e avremo la possibilità di avviare il trainer e attivare i trucchi Quindi, avviamo il gioco, mettiamo in pausa e premiamo Alt più Tab Poi, una volta abbassato il gioco, quindi con il gioco in esecuzione, lo vedete qua sotto Tasto destro, esegui come amministratore, questo è importante perché altrimenti il trainer non funziona E avviamo il trainer Eccolo qua, e quindi possiamo già adesso attivare i trucchi con i tasti dedicati Quindi, 0 attiva la vita infinita, vedete che la riga diventa rossa per indicare che il trainer, che il trucco è attivato Se premo nuovamente 0 diventa nera e quindi è disattivato 0 per la vita infinita, 1 per la resistenza infinita 2 per i crediti infiniti e 3 per le munizioni infinite Una volta attivati i trucchi che vogliamo utilizzare, possiamo cliccare sull'icona del gioco e tornare al gioco Fatto Quindi adesso tutti i trucchi sono attivati Vediamo subito quello dei crediti Come vedete ho 12.615 crediti Vado a prendere Qui posso prendere 100 crediti Li prendo Però guardate che sono arrivato a 17.715 Quindi in questo modo con il trucco dei crediti attivato Ogni volta prenderete una quantità di molto maggiore rispetto a quella che avreste preso normalmente senza il trucco Vedete? 22.000 Quindi sono circa 5.000 crediti Ogni volta che prendete qualche tessera con crediti otterrete 5.000 crediti Quindi molti di più di quelli che ne prendereste normalmente Questo per quanto riguarda i crediti Per quanto riguarda invece le munizioni Ho attivato anche quel trucco Come vedete adesso ho 5 caricatori Ricaricando Voilà Sono 995 caricatori Quindi vi basterà ricaricare l'arma Per avere le munizioni infinite Però dovete avere, come vedete Se adesso provo a ricaricare non mi fa ricaricare Quindi dovete avere almeno un caricatore In modo da poter ricaricare l'arma Ma non ce ne sta Quindi se non dovesse permettervi di ricaricare Quindi di attivare il trucco Cercate un po' fino a trovare Qualche, ecco l'ho trovato Ricarichiamo E anche qua 970 caricatori Proviamo ancora con un'altra arma Questo bel cittinone Voilà 996 caricatori Quindi questo per quanto riguarda il trucco Delle munizioni infinite Ora vediamo l'ultimo Cioè la vita infinita Non è chi vuole per stato attirato Vedete che non mi piacere nulla Però continuano a sparare ma non mi piacere nulla Non è è un di più Come vedete anche qui Ecco Alla ricarica Si attiva il trucco Si attiva il trucco Ovunque se non dovesse succedere ricordate che basta prendere una scatola di munizioni per quell'arma. Nel momento in cui prendete la scatola di munizioni il trucco inizierà a funzionare. Quindi anche in questo caso vedete 980 caricatori anche per questa. Quindi con questo è tutto, i crediti funzionano, le munizioni infinite funzionano e anche la vita infinita. Questo è il trainer per Deus Ex Human Revolution, trovate nella descrizione del video il link per poterlo scaricare. Un saluto a tutti da Cuccarone, alla prossima.